Penso che questa è una grande partecipazione popolare, dove realmente ritengo che tutti quelli che vengano, anche se sono lontani dal mio pensiero politico, se condividono questa battaglia è giusto che siano qua. Però io penso che la presenza di Beppe Grillo oggi sia stata un danno per questa manifestazione, perché chi l'ha visto la televisione ha visto soltanto che lui ha parlato dei livelli nazionali. Allora, seriamente, se era qua doveva parlare del problema che abbiamo su questo territorio, del problema nazionale, vada su un'altra tribuna. Non sfrutti questa tribuna per questo.